Con l'evento PA 140 dedicato alla cultura open, si è concluso il Piemonte Visual Contest e ha preso il via lo spin-off Piemonte Storyton. Il CSI, insieme al Consiglio regionale, ha calendarizzato una serie di incontri con designer, giornalisti, esperti e referenti delle PA per la redazione di racconti da abbinare ad alcune infografiche che cittadini, sviluppatori, scuole e aziende hanno proposto in occasione del contest. I prodotti realizzati verranno presentati a maggio in occasione del Salone Internazionale del Libro all'interno della sezione Book to the Future, grazie alla collaborazione con il Digital Festival.